Mi ringrazio anche il direttore marketing perché siamo onorati come promover Entefier che ha promosso, organizzato con un team molto efficiente questa prima conferenza stampa e poi la grande mostra che faremo tra qualche giorno nel mondo qua vicino. Siamo nel centro della cultura, quindi abbiamo fatto una buona scelta quando abbiamo detto andiamo da Londra, quindi questo ci fa molto piacere e siamo onorati di essere qua, tra l'altro in questa struttura così pulita, lineare, bella che si adatta perfettamente al tipo di mostra e al tipo di evento realistico che noi facciamo. Quindi, come sapete, è pleonastico il divino, ma lo ribadiamo, che qui sarà un evento che riguarda tutta l'arte, prevalentemente figurativa, che riguarda sia la cultura che la scultura, moderna e contemporanea, prevalentemente credo che non c'è, se non sbaglio. Ma poi saranno i personaggi di questo autorevole tavolo ad illustrare i contenuti e il senso profondo di questo evento. Promoberg ha pensato di uscire dai propri ambiti tradizionali, che sono anche quelli, lo dico subito, del mondo dell'economia, perché le fiere riguardano prevalentemente questo. Noi li hanno sposato da diversi punti di vista anche di abbinare l'economia alla cultura e quindi della cultura all'arte per eccellenza. E dopo una felice partenza dell'anno scorso di questo evento siamo alla seconda edizione, quindi che ha avuto un risultato positivo sia dal punto di vista dei contenuti, ma anche da tutti i contenuti, anche economici, anche gestionali, perché alla fine c'è anche questo, le cose non si leggono soltanto con i bei pensieri, ma si devono tradurre in fatti. E quindi noi, dopo il felice debutto dell'anno scorso, oggi alla seconda edizione, l'anno scorso lo consideriamo anche di una logica fieristica, come direi un assaggio, un'esperienza che poi va apparata e le nostre manifestazioni normalmente nell'arco dei tre anni o si consolidano o vanno bene o sono, diciamo così, bene accolte, accettate, qualificanti, oppure noi le togliamo. Quindi abbiamo un po' questo progress che noi facciamo nel corso del tempo, questo come logica di un'azienda, perché la propria è anche un'azienda, secondo me, un'azienda che ha idee, ideazione, promozione, realizzazione e diffusione di cultura, prevalentemente economica. Quindi questa è la seconda edizione, questa è la seconda edizione, perché poi, sempre in Milano, non lo scorso siamo stati alla Triennale. Scusate. E tu, sei tu? Sì, sì. Questi telefoni? Sì, è la penicillorciazione. Ah, ok. allora devo dire che abbiamo trovato questi momenti emotivi attrattivi fatti a Milano in quella nuova Milano, la chiamo così perché è una città smart, intelligente, evoluta quella Milano che negli ultimi anni è stata completamente trasformata dalla costruzione dei nuovi gratticieli e che è diventata ormai uno dei poli principali dal punto di vista culturale e qui si respira un clima a Milano sempre più, soprattutto dopo l'Expo, una città internazionale e alla vanguardia quindi abbiamo scelto questo luogo da Mondadori per lanciarlo quindi io credo che questo sia il massimo che si potesse auspicare e il nostro desiderio è stato questo e lo abbiamo realizzato devo anche dire che abbiamo pensato diciamo all'arte e alle gallerie molto importanti in Italia che fanno anche, sono anche dei grandi candidati 60 gallerie di grande qualità in una realtà si snodono, in una realtà poliedrica della pittura e della scultura del Novecento quindi avremo questo tema, il Novecento, la pittura e direi anche il fascino e l'emozione che questo dà ai visitatori e io nel dare la parola evidentemente poi qua al nostro bravissimo Sergio Ravigi che abbiamo, che abbiamo figato, che da anni si occupa di tutte queste tematiche dell'arte nelle sue varie articolazioni, nelle sue varie diffusioni chiuderei con una frase diciamo di Picasso la che scuote dall'animo la polvere accumulata nella vita di tutti i giorni questo che cosa vuol dire? questo vuol dire che noi nella vita di tutti i giorni anche nella monotonia, nella routine dobbiamo staccare, provare emozioni nuove che togliamo la polvere della quotidianità e ci immergiamo dell'arte questo è anche l'auspicio che io faccio come responsabile di Promover l'auspicio per i nostri visitatori perché alla fine ci saranno i visitatori e i visitatori avranno un'occasione per pensare, per limitare per mettersi di tornare alla bellezza e all'armonia delle opere d'arte grazie